Seduta monotematica del Consiglio Comunale sul tema dell'autonomia differenziata delle regioni. Un documento è stato elaborato e sottoscritto da tutti i gruppi, ad eccezione del gruppo Prima Napoli rappresentato dal consigliere Vincenzo Moretto che ha aderito alla Lega ed è stato approvato all'unanimità dei presenti. Penalizza particolarmente il sud ma penalizza anche aree meno ricche e più deboli del centro nord. Quindi è anche una misura che rischia di essere profondamente classista. Oggi la questione è che il principio di autonomia è un principio legittimo che può essere perseguito legittimamente qualora si siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale, cioè l'esercizio dei diritti di cittadinanza su tutto il territorio nazionale. Questo ad oggi è ciò che prescrive la Costituzione e questo ad oggi non è ancora attuato perché dal punto di vista legislativo non è stato dato ancora a seguito a questo indirizzo del sancito nella Costituzione. Tutti coloro che hanno, a partire da chi ha avuto maggiore anche rappresentanza politica per il mezzogiorno dovrebbe farsi sentire anziché avallare operazioni di questo tipo. Quasi l'unanimità, un bel momento di collaborazione istituzionale ma soprattutto un impegno di lavoro per dire no alla secessione dei ricchi, per rivendicare l'attenzione per il meridione nel mezzogiorno d'Italia per difendere la Costituzione italiana. Molto onorato dei compiti che mi vengono attribuiti nel documento unitario, cercherò di sostenerli anche in sede ANCI per il ruolo attribuitomi. Grazie a tutti. Una bella pagina di democrazia, un documento molto puntuale, in punto di diritto che impegna il Presidente del Consiglio Comunale a prendere una serie di iniziative, quindi c'è la difesa della Costituzione, la difesa dell'unità nazionale, la lotta alle disuguaglianze, alle diseconomie e di una città e di un sud che non si sta più a essere declinato in termini discriminatori. È finita questa stagione, non si possono più fare colpi di mano, bisogna lavorare per realizzare le autonomie in maniera uguale nel Paese e anzi eliminando le discriminazioni e disuguaglianze che sono già in atto. Questo è il commento sulla posizione del Consiglio Comunale, poi le nostre chiaramente sono singolarmente di ogni gruppo, anche le mie personali, molto dure anche sul piano politico, però questo è il documento che ci vede uniti e credo che sia una pagina molto bella perché si è percepito l'orgoglio di sentirsi partenopei da parte di tutti i gruppi politici in Consiglio Comunale, vuol dire che in questa città non passano più le leggi, le manovre e i disegni di attacco al meridione e alla sua capitale. Questo è il messaggio forte. Quindi qualsiasi persona, qualsiasi istituzione, qualsiasi gruppo politico che da Roma pensi di mettere in difficoltà con ingiustizie così evidenti le nostre terre troverà evidentemente uno sbarramento compatto da parte di tutti i rappresentanti della politica cittadina.